Ed è tempo di bilanci anche per i sindacati. Stamane la conferenza stampa della CGL barese. I dati sul lavoro parlano di un anno da dimenticare. Vediamo nel servizio di Renato Piccoli. L'obiettivo è tracciare delle linee strategiche e operative a sostegno dei lavoratori per il 2014, ma è impossibile prescindere dal fare il bilancio di un difficile anno. A tirare le somme sarà la CGL di Bari questa mattina in conferenza stampa. E alcuni dati la Camera del Lavoro li ha resi noti in anteprima e non c'è di che rallegrarsi. 11.500 posti di lavoro persi in due anni a causa della crisi a Bari. E si sa, la mancanza di un posto di lavoro equivale a una famiglia senza stipendio. Non tutti i dipendenti in mobilità, di fatti, ricevono un sostegno al reddito e la legge di stabilità, in alcuni casi, ha cancellato i benefici fiscali per le aziende che intendono assumerli. Sul territorio di Bari, inoltre, secondo i dati CGL, sono già 20.000 i lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori sociali in deroga. Non si può più aspettare, bisogna agire per salvare tutti, dichiara Pino Gesmundo, segretario provinciale del sindacato, che oltre a guardare al passato, promette proposte finalizzate ad evitare ulteriori tagli all'occupazione.